Campionato 98-99 Sponsor ufficiale Exigo Cinz Ecco le formazioni per la squadra del Milan 17, Lennan 2, Elbeck 3, Nardo 27, Coco Allenatore Zaccheroni Alberto Squadra della Salernitana 1, Valli 2, Del Grosso 4, Breda 8, Tedesco 10, Tedesco 11, Di Maio 15, Fusco 16, Bolic 25, Rossi 26, Song 27, Chianese Giocano in parchina 12, Ivan 3, Tosto 5, Monaco 20, Di Michele 21, Lincenze 23, Battucchi 24, Buccaia Allenatore, Rossi Delio 23, Mo Naruto 30, 18, 22, Che 24, 3 29,atti 25,件 28, obrigado 24,ini 25,20 24,結果 7,30 29,5 28, Miles 29,6 65,3